e io voglio come va dirti Blade Beats qua nel mio studio la cosa è molto semplice raga io ci metti il beat, te ci metti le rime, il tuo stile nelle info qua sotto del video troverete il link dove scaricare la strumentale che è quella che state sentendo ora sotto ho cambiato un pezzo dei Queen a questo vinile e lavorato con H&BC quindi è una roba super classic e si chiama il Boom Puffa per voi per fare sta roba avete due settimane di tempo se vi va, se vi piglia bene perché non si vince un cazzo, non ci sono soldi, nulla di che non c'è nessuna giuria ma semplicemente io che valuto in base a Metrica contenuti e flow è quello che mi piace di più personalmente sulla mia strumentale e basta, alla fine delle due settimane quello che mi piace di più lo mixo e lo pubblico sul mio canale YouTube e facciamo sentire quello che abbiamo creato oggi tutti chiedono soldi, una porcheria completa proprio ci sono dei cani in giro che non avete idea a me piace collaborare con sta roba quindi se vi va di farlo, se avete fotta pigliati la penna e scrivi e mi mandi il pezzo mi mandi il pezzo completo con le strofe e le strofe a parte che mi serviranno nel caso per mixarle quindi questo, ne sceglierò uno poi dipende anche quando me ne arrivano per adesso è il primo che faccio quindi penso che uno va già bene in futuro magari ripeterò la stessa cosa se va bene e magari se arriveranno tanti pezzi se ne può scegliere anche più di uno si può fare anche la classifica primo, secondo e terzo, secondo me una roba così per pigliarci bene e divertirci quindi raga che vi devo dire poi vi ricordo che è uscita una mia miniserie di beat classici saranno 10 in totale il primo di 10 è già uscito ogni beat sarà accompagnato da una grafica diversa in stile erotic comics comunque cartoon e anche qui se piglierà bene che andrà tutto bene ne avrò 4 soldi per stampare il cd alla fine dei 10 pezzi il tutto sarà raccolto appunto in un cd sia le grafiche che le 10 strumentali questo se ci sarà la possibilità se entra bene quindi raga io penso di avervi detto tutto trovate tutto nelle info comunque sia il link appunto per la strumentale che la mail dove inviare il tutto basta io vi saluto iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto un abbraccio Blade Music Dirty Blade Beats è incluso qui è stato Sweden c'è stato